Salve a tutti, ecco te e bentornati ragazzi ancora una volta quest'oggi con altre news di sole e luna Ebbene se ragazzi in questi giorni ci sono tempestando di news tra Koro Koro, Pokenchi, trailer e chi più ne ha più ne metto ragazzi Allora, il trailer di oggi come vedete dalla copartina è più corposo di quanto mi aspettassero Io l'ho già visto ragazzi, non ve lo posso negarlo, l'ho già visto, quindi andiamo a commentarlo insieme Perché ci sono anche, cioè sia Macformalora che, ok va bene, appena l'ho visto ho detto, vabbè non apre neanche il video Ci sono anche altri Pokémon nuovi ragazzi, da cui l'evoluzione di Cutify e l'evoluzione di Bounceweed Quindi delle cose abbastanza particolari, quindi io andrei, un attimo prima a vederlo, per commentarlo, cosa mi piace di questo tra i ragazzi più che altro Tanto questo è che voi l'avete già visto ragazzi, quindi non niente di che Allora, tipo Zero si evolve in Silvalli, la traduzione è appunto, di tipo normale con appunto quella vita che sarebbe Arras System Qua è detto in modo diverso, rompe la, rompe la, appunto questa maschera diventa Silvalli Che cambia abilità appunto a seconda dell'oggetto, infatti ci vengono mostrate le varie colorazioni Di tipo erba, quindi con la coda e la criniera, di tipo fuoco, con le varie colorazioni, acqua Ragazzi è un Arceus in piena regola Yangmo, le evoluzioni, anche se è che sono molto belle ragazzi, sicuramente non mi dispiace Akamo, ah ok, non è più già ranga, meno male Akamo e Komo, beh ma niente i nomi Ok, ho visto Bulletproof Ok, dopo andiamo a vedere un attimo sul sito molto molto velocemente ragazzi, non preoccupatevi Vabbè, questo è che mi piace ragazzi, non sono affatto male, anche in game fanno la loro bella figura Quindi sicuramente non mi dispiacciono più di tanto L'unica mossa, Clanging Scale, la mossa peculiare di questo Ok, l'evoluzione di Bouncewit, questa non me l'aspettavo Non me l'aspettavo, non sono brutte Stini, l'evoluzione di Bouncewit, prima evoluzione con Leafguard e Oblivious ragazzi come abilità E Sarina, Sarina, penso sia il nome in inglese dell'ultima ragazzi, la pronuncia più che altro Non sono brutte, non sono brutte Mi aspettavo, alcuni vocifravano un fuoco erba per Bouncewit Non penso che fosse il caso, infatti mantiene il tipo erba puro Abilità unica, Queenie Lee Majest, è una specie di, sì, è una specie di regina Adesso non so regina di cosa, ma comunque questi ragazzi ha questa abilità unica Finalmente abbiamo questa specie di umanoide, Ribon B Ribon B appunto, questa specie di umanoide che è l'evoluzione di Clutify, Coleotro, Fata Con Shield Dust e Onigator come abilità Non è brutto come Pokémon, non mi dice tantissimo Abbiamo questa evoluzione, questa forma loro di Mach Che a prima vista è brutta con i colori Però guardate l'animazione ragazzi, guardate che avete l'animazione Con i colori che scorrono lungo il corpo Questa cosa mi piace, devo ammettere che non è bello con i colori Ma questa cosa, guardate, guardate con i colori che scorrono nel corpo Questo mi piace un sacco questa cosa qua Potrà anche essere brutta quello che volete Ma questa cosa dei colori che si muovono è stupenda Nuovi allenatori, infatti abbiamo nuovi capitali se non ho capito mai ragazzi Abbiamo Olivia che, ah un'altra K1 invece Della Akara Island, abbiamo un'altra K1 che usa, come si chiama? L'Ikanot in forma mezzanotto, ho visto, e anche Nospas Quindi potrebbe essere di tipo roccia E abbiamo Ilmia che è una capitana specializzata nel tipo normale Quindi abbiamo sia un altro K1 dopo Ala Un altro capitano conformato da Korokoro Ilmia, che è il tipo normale E finisce il trailer, qua se non ho visto mai ragazzi Molto, ma molto interessante Qua non ci dice granché di nuovo ragazzi Qua stoppiamo il video Ci dice solamente l'abilità Adesso faccio un piccolo taglio Andiamo un attimino, proprio velocemente ragazzi A vedere soltanto le descrizioni dei Pokémon Senza leggere ovviamente tutto Scrizione, perché sennò sarebbe un pochino troppo Quindi ragazzi ci vediamo un attimo, fra poco, sul sito Pokémon Eccoci qui ragazzi sul sito di Pokémon ufficiale italiano In cui possiamo vedere appunto le informazioni Che sono state appena aggiornate su questo sito riguardante il trailer di poco fa Allora abbiamo queste informazioni molto brevi che vi leggerò ragazzi Abbiamo Silvalli con l'abilità Sistema Prima Evo Questo è il sistema ragazzi appunto E' anche il nome dell'abilità di questo Silvalli Che gli permette di cambiare tipo grazie a questi dispositivi Questi dispositivi vengono lanciati da Iridio a questo Pokémon Che gli permettono, come abbiamo visto nel trailer Di cambiare typing Praticamente cambia un pochino i colori E quindi questi colori simboleggiano i bari typing Comunque è un Pokémon bello Sistema Prima Evo ragazzi con l'abilità 100 kg Tipo normale Pokémon multigenere, tanta tanta roba Poi abbiamo Akamo Pokémon Squama Antiproietta e antisuono Non dice niente di importante ragazzi su questo Pokémon La cosa importante da sapere è qua nell'evoluzione Ovvero Komuo Che è il Pokémon sempre Squama Dragolotta con antiproietta e antisuono Ma la cosa importante è la sua mossa esclusiva Ovvero Klamon Squame Grazie a quale attacca l'avversario con un suono fortissimo Prodotto dallo sfegamento delle sue Squame Dopo questo attacco la riflessione del Pokémon diminuisce Questa è l'unica cosa importante che ci viene detta in questa descrizione Sul sito di Pokémon ragazzi Quindi vi leggo solamente questo Non vi dico nient'altro Perché tanto sono solamente informazioni Che potete andare a leggere anche per conto vostro Poi abbiamo Mi pare l'evoluzione di Qtuf Ovvero Ribombi Pokémon Bombide Con l'ottrofolletto Con l'abilità mielincetta E polvoscudo Semplicemente ho detto che I Ribombi Praticamente Odiano la pioggia In quanto la loro pelura diventa appiccicosa A causa del miele Che rimane Che rimane intrappolato nella sua pelura Perciò grazie alla pioggia Rimane Tutto appiccicoso questo Pokémon Non viene detto nient'altro Di particolarmente interessante ragazzi Su questo Pokémon Questo sito ufficiale Poi che abbiamo Abbiamo l'evoluzione di Bounceweed Questo non me l'aspettavo Sono Pokémon Frutto Con foglia manto E indifferenza Sono molto strani come Pokémon Sinceramente Non me l'aspettavo fatti così Però anche qui ragazzi Dobbiamo andare a vedere l'evoluzione Ovvero Serena Serena Sempre Pokémon Pokémon Frutto Che Possiamo vedere che Adabilità Regalità Non tutti Ma rivista finora Nel suo altro Pokémon Che intimorisce a tal punto I nemici Da impedire loro Di usare mosse Ad alta priorità ragazzi Quindi questo potrebbe essere usato Molto anche Sia nell'avventura Ma anche nel competitivo Per esempio ragazzi Potrebbe tornare utile Magari in qualche Con qualche team Adesso non so quale Perché non sono molto Aspetta di competitivo Però sicuramente Magari potrà tornare Questo Pokémon regale Infatti Come potete vedere C'è anche questa corona Ragazzi Quindi praticamente È il re della foresta Possiamo dire Potrà tornare utile Anche nel competitivo Di sole e luna Adesso c'è qualcos'altro Qua dei Pokémon Oddio Grimer Allora Pokémon Melma Vento Veleno Velentocco E voracità Praticamente ci dice ragazzi Che questo Grimer È diventato così Mangiando i rifiuti Della regione di Allora Ragazzi Quindi Ha tenuto Delle mutazioni Che Rendono il suo aspetto Così Così ragazzi Così Bello Veramente molto bello Ma soprattutto abbiamo Mark for Allora Che verrà dispostato Da tantissimo ragazzi Per questa colorazione È stranissima E infatti Mangia continuamente Qualunque cosa trovi E se è attagliato Dai mossi Della fame Perde il controllo Ragazzi I Grimer Allora Producono e conservano Le tossine All'interno del corpo Per questo A differenza Dei Pokémon La stessa specie Che si trovano In altre regioni Non ne mandano Odori sgradevoli Quindi ragazzi Sono dei Pokémon Che a differenza Dei Grimer E Mach di Canto Non ne mandano Insomma Tossine Le assorbono Ma Però non ne mandano Niente di tossico Ragazzi Quindi Vabbè Il design può Lasciare un pochino Desiderare Per questi colori Stranissimi Però Diciamo che L'animazione Del gioco Rende di più Rispetto solamente All'immagine Ragazzi Quindi attenzione A non farvi prendere Insomma Insomma Attenzione A non farvi Ingannare Da questa immagine Perché nel gioco Lo sprite Può leggermente Essere migliore Non di tanto Ma di pochissimo Ragazzi Poi I Pokémon Dovrebbero essere finiti Quindi Voglio andare un attimo Nella regione Allora Perché sicuramente Ci sarà appunto I Kauna Abbiamo un secondo Kauna Ovvero Alixia Che avevamo già Appunto Notato Nel trailer Di Sola Luna Che era Appasso Qualche giorno fa Ma però Che non è un trailer Di questi qua In cui rivevano i Pokémon Era un trailer Secondario Alixia E la seconda Kauna di allora La seconda isola Che visiterai Il giro delle isole Appunto A Kala Grazie alla sua Stabilità Come allenatrice È stata scelta Come Kauna Nonostante la sua Giovane età Ma è molto modesta Se costruita una ragazza Come tante altre Molto bello il design Ragazzi Di questa ragazza Caraibica Possiamo così dire Delle isole tropicali Veramente Non mi dispiace Molto diversa da Ala Molto molto diversa da Ala Guardate Ala E guardate questa Dice Sono due persone Completamente diverse Non sono entrambi Kauna E invece Sono entrambi Ragazzi Dei Kauna Poi Voglio vedere Sempre nella regione Di Alola Ragazzi I capitani Perché abbiamo Un nuovo capitano Che ci è appunto Spoilato Da Korokoro Il capitano È Liam Ah qua è Liam Ragazzi Cambia nome Rispetto all'inglese Liam Esperto di Pokémon Tipo normale Ha frequentato La scuola per allenatori Mi ricorda molto Comor Mi ricorda molto Comor Ragazzi Aveva fatto tipo Questa scuola Più o meno Per allenatori E specializzato Nel tipo normale Mi ricorda molto Ragazzi Comor Il Pokémon Bianco 2 Nero 2 Praticamente La prima palestra Il primo capitano È di tipo normale È specializzato In questo tipo Ragazzi Quindi Sarà lui Il primo A farci provare L'ebrezza Della regione di Alola Che dire Nelle funzioni Non c'è nient'alto Di nuovo Ragazzi Non c'è nient'alto Di nuovo Quindi Vi invito ragazzi A lasciare un bel commento Per dimmiare la vostra opinione Su tutte le cose Che sono uscite nel trailer Quest'oggi Perché sono veramente Tantissime Tra tutti i nuovi Pokémon Annunciati L'evoluzione di Bounce With Macformalola Le evoluzioni Anche di Youngmon Nonostante abbiamo già visto Ragazzi Poi la nuova Kauna E il nuovo capitano Ragazzi Tanta tanta roba Quest'oggi Nei trailer Quindi ragazzi Un bel commento Un bel like E una bella descrizione Al canale Per supportarmi Noi ci vediamo domani Ragazzi Con un nuovo video Sempre qui puntuale Sul canale di Rochat Quindi Un saluto a Rochat Buon pomeriggio ovviamente E Bye bye ragazzi